Buongiorno, sono Roberto Virgili, coordinatore tecnico della unità operativa complessa di anatomia patologica del campus biomedico. Insieme alla dottoressa Crescensi vi diamo appuntamento il 15 ottobre a partire dalle 16 per parlarvi delle tecnologie digitali applicate ed applicabili ai servizi di anatomia patologica. I servizi di anatomia patologica un'importante componente variabile è relativa alle risorse umane e questo anche in relazione alla non sempre automazione possibile nei nostri processi. E' importante quindi una standardizzazione dei processi, una tracciabilità dei campioni per garantire al paziente la giusta diagnosi. Vedremo quindi il 15 come le moderne tecnologie digitali possono avere in aiuto dei professionisti sanitari nel gestire il proprio lavoro e nell'evitare errori importanti. L'appuntamento 15 è per tutti il 15 ottobre a partire dalle 16 sulla piattaforma Geosmart Campus, partner di ASSD, l'associazione scientifica per la sanità digitale presieduta da Gregorio Bosentino con cui abbiamo collaborato nella stesura di questo libro bianco. A presto.